Nel corso di questo fine settimana l'intera nostra penisola continuerà ad essere interessata da un vasto campo di alta pressione ben strutturato a tutte le quote ed esteso dal nord africa fin sull'europa centro orientale dove saranno ubicati i massimi di pressione al suolo alta pressione che avrà il merito di non consentire l'ingresso del flusso perturbato in aria mediterranea garantendo così sulla nostra regione condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato ma ecco in sintesi il tempo previsto per questo weekend sabato 7 e domenica 8 novembre saranno due giornate presso che identiche con cielo che si presenterà in prevalenza poco nuvoloso ovunque tuttavia nottetempo e al primo mattino sarà possibile la formazione di nubi basse lungo la costa e dense foschie e locali banchi di nebbia nelle vallate interne temperature lieve aumento specie sui colli e sui monti venti deboli tra ovest e nord ovest e mare calmo o quasi calmo nei primi giorni della prossima settimana l'alta pressione tenderà a spostarsi verso nord rinforzandosi ulteriormente e posizionando i suoi massimi di pressione sul baltico l'allungo verso liberia di tale figura barica continuerà a sbarrare la strada al flusso perturbato atlantico verso il mediterraneo dunque non sono previste precipitazioni almeno fino a mercoledì 11 novembre ma nel contempo affluirà aria relativamente fresca e secca da est che determinerà un lieve calo delle temperature tra le giornate di martedì 10 e mercoledì 11 ma per maggiori dettagli invito come sempre i telespettatori a visitare il sito www.meteogiuliacci.it dove verranno pubblicati continui aggiornamenti per il medio e tutto da giuseppe stabile un buon fine settimana